E' un'importante che era necessario fare in questo periodo di forte siccità in tutto il nostro territorio del Ponente con delle zone che soffrono la mancanza d'acqua. Ci siamo interessati e ci interessiamo come prevede la competenza del lato idrico da Dandora fino a Ventimiglia e oggi in questo incontro che abbiamo condiviso con il prefetto della nostra provincia d'Imperia. Il primo lo stato dell'arte dove finalmente sapremo del master plan del Roya che è diviso in diversi lotti la data di ultimazione di questi lavori. Quindi abbiamo precisato e definito questo aspetto fondamentale affinché il cittadino sappia che l'impegno preso due anni fa è stato mantenuto, sono arrivati i finanziamenti, sono partiti i lavori e le date in cui saranno completati. Il secondo è quello relativo alla situazione di difficoltà in questo momento nelle diversi territori della nostra provincia. Le difficoltà maggiori ci sono a partire dalle zone alte dell'Imperiese fino ad Andorra dove Andorra è nella situazione peggiore. La situazione di Cervo è praticamente quasi risolta perché a differenza dell'anno scorso, di due anni fa e dagli anni passati, con i lavori già messi in funzione Cervo si trova in una situazione risolta, così il dianese che quest'anno non ha sofferto. Ci sono le zone alte dell'entroterra, ci sono dei piccoli borghi da Ceriana fino ad arrivare a Dolcedo e fino ad andare a alcune parti del dianese alto che hanno e soffrono problemi. E quindi abbiamo deciso di fare alcuni piccoli lavori di emergenza laddove necessario. Abbiamo incominciato pomeriggio di oggi a Ceriana per cercare di alleviare e poi di garantire serbatoi dove fosse necessario. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 500 mila euro che faremo un consiglio provinciale nelle prossime settimane con la variazione di bilancio che ci permetta di spenderlo subito per migliorare l'approvvigionamento dei pozzi del Roia con lavori che sono significativi. Abbiamo quindi poi definito un atto di solidarietà fra i comuni per far funzionare meglio il sistema. Quindi invierò ai sindaci della provincia un atto di indirizzo in cui chiederemo di sospendere l'erogazione dell'acqua per pochissime ore nella notte che quindi non danno disturbo ma che possono permettere al sistema dell'acqua, che sono sistemi complessi, di poter meglio lavorare per riempire quelle vasche che difficilmente riuscirebbero ad ottenere il risultato e quindi per migliorare in questa fase di emergenza la possibilità che anche le zone che soffrono di più possono avere ed alleviare la loro situazione. Sì perché il sistema è il sistema unico del Roia e quindi da 20 miglia fino ad arrivare ad Andorra ma è un invito che faremo con un atto di indirizzo di poco peso, di nessuna sofferenza perché sarà limitata da pochissime ore durante la notte ma che secondo i tecnici dovrebbero aiutare il sistema a funzionare meglio per questi giorni di difficoltà.